L'antico sorprendente Dal primo libro dei re, capitolo 19 Elia entrò in una caverna per passarvi la notte Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini Che cosa fai qui, Elia? Egli rispose Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti Poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza Hanno demolito i tuoi altari Hanno ucciso di spada i tuoi profeti Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita Gli disse Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore Ed ecco che il Signore passò Ci fu un vento impetuoso e gagliardo Da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore Ma il Signore non era nel vento Dopo il vento un terremoto Ma il Signore non era nel terremoto Dopo il terremoto un fuoco Ma il Signore non era nel fuoco Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera Come lo dì, Elia si coprì il volto con il mantello Uscì e si fermò all'ingresso della caverna Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva Che cosa fai qui, Elia? Egli rispose Sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti Poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza Hanno demolito i tuoi altari Hanno ucciso di spada i tuoi profeti Sono rimasto solo Ed essi cercano di togliermi la vita Curardente, Elia E passi in cammino Piedi in cammino, senza dubbio Come i discepoli di Emmaus Come noi Qui da gran parte d'Italia Da fuori d'Italia Già con fatica di viaggio di trasporto di caldo E prometto che tra venti minuti abbiamo una sosta Elia Senza dubbio Altrettanto Cuore ardente Ardo di zelo E' in cammino Tanto che diventa Può diventare Un modello per noi Certo Una volta che ci togliamo Dalla tentazione Che Una volta che ci togliamo Dalla tentazione Che Sia Nella Bibbia Da trovarsi qualcosa da fare O da evitare E' tentazione dei credenti Persino tentazione peggiore Per chi la Bibbia la conosce poco Se così fosse Dio sarebbe un gran lugo eroico Che bisogno c'è di mettere insieme tutte quelle pagine E' Molto incoerente Perché quelle pagine spesso si contraddicono Cosa dobbiamo cercare nella Bibbia allora? Non è un elenco di cose da fare o da evitare E' una raccolta Ampia Variegata Incoerente Di testimonianze Di persone Che con Dio sono entrate in relazione Più che il fai così Diventa il Fai in modo simile Impara che cosa hanno imparato E adattalo al mondo tuo Nuovo Ecco che Elia torna allora particolarmente interessante Per noi oggi Contesto nuovo Strano Diverso Come si fa Ad annunciare Il Vangelo E nel mondo d'oggi Come si può pensare Di partire O addirittura Di restare Nei nostri luoghi E annunciare Cosa significa? Davanti a che cosa si è trovato Elia? Cuore ardente Tanto Ci verrebbe da dire anche ogni tanto Troppo Accusabile Di integralismo Questa scena Viene dopo che Elia Si è messo sulla breccia Per contrastare Una situazione Sociale Religiosa In mezzo alla quale lui cresce Lui vive Nel nord D'Israele Laddove ci sono due grandi Eredità Religiose Culturali Quella ebraica Che noi conosciamo bene Il Dio unico Yahweh E quella Cananea Gente più ricca Di solito Che aveva collegamenti Molto più importanti Con il mondo esterno Che situava Quel mondo Nel contesto internazionale Che Non a caso Ha dato una regina Che non è israelita E di Sidone Collegamenti internazionali È la regina Sposa Che porta avanti Una religione Fatta di Sacrifici Per garantire Che Il Baal Il Signore Continui Ad assicurare Stagioni Pioggia E frutti Della terra Sembra molto Ragionevole Come religione La situazione Di Elia Non è poi Molto diversa Della nostra Ed Elia Ardente Di zelo Cuore In fiamme Sfida Direttamente Questo mondo Manda tre Anni Di carestia Di siccità E poi A un certo punto Indica al re Sbrigati Ad andare Nel tuo palazzo Perché Tra poco Si mette a piovere Non ci arrivi In tempo E così è E poi Sulla scia Di questo Si imbarca Nella sua Più grande Impresa Sono rimasto Solo io Non era del tutto Vero Ma Elia Un po' Esagera E sono 450 I sacerdoti Di bal E allora Sfidiamoci Come fosse Nel far west Facciamo i due Altari Prima voi Che siete Tanti E facciamo Una cosa Il vostro Dio Se è vero Bruci lui L'offerta O altrimenti Ci penserà Il mio E il popolo Che di fronte Alla sfida E all'accusa Di Elia Quando Smetterete Di zoppicare Con due piedi Noi diremmo Di tenere i piedi In due scarpe Di andare Un po' da uno Un po' dall'altro A seconda della convenienza Il popolo Zitto A guardare E allora Elia fa la sfida E il popolo Ecco Questa è una cosa bella Così abbiamo La prova È interessante La sfida Sappiamo Come va L'altare Dei Cananei Non si accende A un certo punto A mezzogiorno Elia fa Bagnare D'acqua Abbondante E scende Un fuoco Dal cielo Che brucia L'offerta L'altare E la cenere Dice addirittura Il libro Dei re Al che Elia Ardente Di zelo Fa anche Mettere in fila Tutti i 450 Sacerdoti Di Baal E li sgozza Tutti Un Dio Potente Un Dio Che vince E poi Si fa Prendere paura Elia E scappa Eh sì Anche qua Piedi in cammino Ma per scappare Mettersi al riparo E quando Arriva Lontanissimo Nel sud Di Giuda Una settimana Di cammino Trova l'angelo Del signore Che dice Come poi fa Dio Che fai Qui Elia Beh Elia No io Sono ardente Di zelo Però Vogliono anche Farmi fuori Quindi Fai una cosa Mangia Perché devi ancora Camminare tanto E poi vai sul monte Di Dio Ed è La scena Che abbiamo Ascoltato Ed è una scena Interessantissima Per noi Perché Anche qua Noi non Non poniamoci La domanda Sul come Elia Ascolti Il racconto Facciamoci prendere Proprio dalla dinamica Del racconto Questo Elia Che ha sfidato Il potenti Ha sfidato Il re E la regina Che lo vuole morto Poi si è fatto Prendere paura Però intanto Si è messo in gioco Fortemente E arriva Davanti a Dio Che gli dice Che fai qui Ardo di zelo Eh lo so Allora Facciamo una cosa Io Sto passando Davanti a te Bene Così finalmente Avrò la prova Definitiva Che ho fatto bene E mi dirai Che cos'altro Debba fare Non è vero Che è quello Che tante volte Nella nostra Esperienza Noi abbiamo Sperato Desiderato Voluto Allora Avere le idee Chiare Che qualcuno Mi dica Anzi Dio Sarebbe meglio Se trova il modo Di dirmi Chiaramente Cosa devo fare Poi Io ci metto Il mio impegno Elia esce E c'è Un vento Potentissimo Che spacca Le rocce Il vento Che aveva segnato La fine del diluvio Il vento Che chiamato Da Mosè Aveva portato Le cavallette Contro l'Egitto Il vento Che aveva aperto Il mar rosso Il vento Che nel deserto Aveva portato Le quaglie Al popolo Lo stesso vento Che Invocato Da Elia Una settimana Prima Aveva portato Finalmente La pioggia Come dire Non era impossibile Immaginare Che Dio Fosse lì Dio C'era stato Lì Se Elia Avesse semplicemente Dovuto dire Ho sempre Fatto così E così E' andata Poteva dire Eccomi Parla Invece Dio non era Nel vento Perché C'era stato Sì Sì ma forse Quello Non era più Il momento E poi Un terremoto Come quello Invocato Contro i nemici Di Israele Ma Dio Ma Dio Non è nel terremoto E poi Un fuoco Ardente Come quello Che era stato Mandato contro Gomorra E Sodoma Come quello Che si era Rivelato a Mosè Nel roveto Come quello Che era stato Portato con La grandine Contro l'Egitto O il modo Con cui Dio Si mostra Sul Sinai Un fuoco Ardente La fornace Di Abramo Insomma Dio era stato Anche nel fuoco Il Dio potente Del terremoto Del vento Del fuoco Aveva già Agito così Ma Dio Non era lì Dopo il fuoco Arrivò Una voce Di silenzio Leggero Voce di silenzio Non preoccupatevi A volte le nostre traduzioni Giustamente Io le capisco Vanno lette in chiesa Le nostre traduzioni E devono più o meno Essere capibili E Si spaventano Di fronte Di immagini Un po' estreme Ma quello Dice il testo Tra l'altro Una parola Rarissima Ma che rimanda Chiaramente Al silenzio Un Dio Che non Parla O meglio Che parla Ma nel silenzio È addirittura È addirittura Leggero Quel silenzio È leggero Quella parola scelta Tra l'altro Non è neanche sempre Una parola positiva Era la parola Che indicava Le Vacche Magre Del sogno Del faraone Interpretato Da Giuseppe È La parola Che a volte Indica I miseri Quindi Non è neanche Chiaramente Positiva Ma Dio Era lì Ed Elia Si copre Il capo Parla È la parola Che sente È una parola Stranissima Io ho visto Il tuo zelo Allora adesso Andando via di qua Chiamerai Un profeta Dopo di te Eliseo Che farà il posto tuo E poi Andrai a ungere Re Cazael Re Di Damasco Negli Aramei Ma chi c'entrano con noi? Niente Anzi Diventerà Un dramma Diventerà Fonte di morte Per il popolo E Ieu Sono due Usurpatori Sono due Che prendono Il potere Senza averne il diritto Ma Come può Dio Scrivere Una storia così? Come può Dio Ad un Elia così Ardente Chiedere Di farsi Da parte È la sfida Non ho bisogno di spiegare Quale sia il ruolo di Elia Il modello del profeta Alla trasfigurazione I tre discepoli prediletti Vedranno con Gesù Mosè Non ha bisogno di presentazioni Ed Elia Loro due Riassunto Dell'Antico Testamento Tutto E a Elia Ardente di zelo Dio Sembra suggerire Senza Rimproverarlo Non c'è un rimprovero Elia Che sarà visto Rapito Verso il cielo Su un carro di fuoco Che a questo punto Stavolta funziona Di nuovo Ma sembra dire Elia Va bene così Basta Lascia che la storia Prosegua Su cammini diversi Eliseo Non sarà all'altezza Di Elia Con tutto rispetto Ma sembra quasi Che Il volto autentico Di Dio Sia lì Voce Di un silenzio Leggero Cosa implica Per noi Oggi Fare Come Elia Come Elia Non quello che ha fatto Elia Implica probabilmente E un po' ci tornerò Anche io Nell'elezio Ma soprattutto Ascolteremo molte Voci sagge Intelligenti Che ci aiuteranno a leggere Questo nostro tempo Si tratta esattamente Di leggere questo nostro tempo Tempo Politico Sociale Religioso Con il coraggio Di Elia Di trovare Dio Anche laddove Prima non lo avevamo visto Di trovare Le strade di Dio Anche laddove Ci sembrava Che non dovessero Essere cercate Non perché fossero Necessariamente Sbagliate Ma perché forse Non sono quelle giuste Adesso Se Dio fosse Un codice legale Da rispettare Questo discorso Non avrebbe senso Se Dio è Il vivente Da incontrare Allora sì Abbiamo un cammino Davanti Che si riapre Ogni giorno Nuovo Che ci chiede Oggi Elia Che cosa facciamo Insieme Non guardare ieri O meglio Ci guarderai anche Ci ritorneremo su Ma c'è un modo Di guardare Al Ieri Che non serve a dire Dobbiamo fare così Perché così Andava bene Ma che ci serve a dire Bene Costruiamo su questo Per scoprire Dio Anche lì Nella voce Di un silenzio Leggero Questa è una sfida E siamo qui insieme Anche per aiutarci A coglierla Grazie a tutti